Uomini e donne, anticipazioni sulla nuova stagione, dopo i tanti rumors torna anche lei, la decisione di Maria De Filippi Manca sempre meno all'inizio di una nuova stagione di Uomini e donne. La data di partenza, posticipata, dovrebbe essere quella di lunedì 16 settembre e il pubblico non vede l'ora di scoprire chi saranno i nuovi protagonisti del dating show di Maria De Filippi Nuovi, ma non tutti, poiché in studio torneranno tanti volti noti dello show. A partire da due tronisti, Michele Longobardi e Francesca Sorrentino, rispettivamente ex corteggiatore ed ex partecipante a Temptation Island Tanti volti già noti torneranno anche nel parterre del trono over e tra questi ci sarà anche Armando Incarnato, già protagonista di una lite nella prima registrazione Il napoletano discuterà con Mario Cusitore, che si ripresenterà in trasmissione per un confronto con Ida Platano Un confronto che si terrà durante la seconda registrazione, di mercoledì 4 settembre, quando Ida tornerà in studio, probabilmente come tronista Ma non è finita qui poiché ci sarà anche un altro ritorno, confermato da Lorenzo Pugnaloni nelle scorse ore Uomini e donne, spazzato via ogni dubbio, ci sarà anche lei nel programma di Maria De Filippi Il countdown è partito e, stando alle anticipazioni, la nuova edizione di Uomini e donne inizierà col botto Nuove conoscenze, nuove possibili coppie e nuove eliti animeranno lo show, dove torneranno tanti protagonisti storici Ci sarà ancora Gemma Galgani, nonostante le indiscrezioni circa la sua possibile assenza, e ci saranno anche Barbara De Santi e Aurora Tropea E per quanto riguarda gli opinionisti? Tutto il blocco confermato, compresa Tini Cansino, che siederà nuovamente al fianco dei tronisti anche durante questa edizione A confermarlo Lorenzo Pugnaloni, che ha risposto a una domame da ricevuta in direct da un followers Ancora una volta, quindi, avremo tre opinionisti, con Tini che si aggiunge ai vulcanici Tina Cipollari e Gianni Sperti, protagonisti assoluti del programma A proposito di ritorni, nel parterre maschile degli over, oltre ad Armando e Mario Cusitore, ritroveremo Marcello Messina e Diego Tavani Clamorosamente, però, potrebbe tornare anche Riccardo Guarnieri Nulla di ufficiale, ma secondo quanto riportato da Pugnaloni, si vocifera che l'ex cavaliere pugliese sia tornato single Col possibile ritorno di Ida sul trono, in studio potrebbero crearsi degli intrecci davvero pericolosi Al pubblico non resta che attendere per scoprire tutte le novità sul trono più amato della tv Al pubblico non resta che attendere per scoprire tutte le novità sul trono